Nel trailer possiamo vedere Tasha, dell'avamposto Ensign Spire, decorare la sua taverna per Natale. Mentre appende le decorazioni, si sbilancia e cade, facendo anche cadere un po' di oggetti. Tasha prende uno degli oggetti caduti. Si tratta di un diario scritto da Brixie, e da quello che ha detto la Rare su Twitter dovrebbe contenere alcune informazioni sulla maledizione degli scheletri. Dal diario cade un foglietto con delle indicazioni per trovare un oggetto misterioso. Tasha parte per l'avventura e torna con un forziere e con quella che sembrerebbe essere una bussola o un orologio. Durante la notte il forziere si apre e emette una luce verde. La mattina seguente Tasha si sveglia e scopre aver contratto la maledizione degli scheletri. Tasha ha ingenuamente seguito quel foglio senza sapere dove portasse. Probabilmente era un appunto di Brixie su dove poter trovare la maledizione degli scheletri. Questa però è solamente una mia teoria. L'avventura uscirà l'8 dicembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.